Giovedì 3 dicembre ci troviamo a Trento per un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Si parla delle sfide dell'edilizia del futuro, forma, performance e sostenibilità applicata all'edificio in pianto. In questa lunga giornata formativa si è cercato un po' di raccontare quali sono le problematiche oggi presenti attraverso il racconto di case history molto interessanti ma anche un'occasione per conoscere novità, i prodotti più interessanti presenti oggi sul mercato e allora vediamo questo servizio che abbiamo realizzato. La luce nel mondo dell'arte, nell'applicazione museale, in questo caso parliamo di luce applicata alla pinacoteca privata Keller. Abbiamo agito andando a capire che modalità di applicazione di prodotti potevano essere i più indicati. Abbiamo quindi scelto un prodotto molto versatile, molto compatto e con un'efficienza molto elevata. Noi nella fase iniziale lavoriamo a fianco del progettista, dello studio di architettura e dello studio di engineering rispettando le loro esigenze e le esigenze della committenza. Dopodiché entriamo anche nella fase installativa e dei puntamenti degli apparecchi. Il prodotto specifico selezionato è il proiettore Pollux di Erco che è un brand di alta gamma. Erco è specializzata nell'illuminazione museale da sempre e lo abbiamo scelto perché innanzitutto è compatto, è flessibile, ha una qualità molto elevata dal punto di vista di chip led, dal punto di vista di materiali, quali lenti e sagomatori. È stato scelto per ottenere due tipi di sostanzialmente effetto luce, uno tramite proiettori con lenti e l'altro tramite proiettori con sagomatori. La proiezione con sagomatore ci permette di andare a creare con nitidezza i contorni di ogni quadro che era quello che desiderava la committenza sostanzialmente. È utile questo modello secondo te di rapportarvi appunto questo da architetto, da architetto fondamentalmente nel tuo caso ma da azienda, da architetto spesso? Sì, lo ritengo molto utile per la velocità di sviluppo della tecnologia led soprattutto. Il team di studio luce fa formazione continua e frequente e costante e presso i produttori di corpi illuminanti ma anche presso i costruttori di chip led per cui abbiamo diciamo nella più veloce immediatezza la conoscenza della tecnologia e quello che la ricerca e sviluppo delle aziende immette e investe. Per cui il nostro asset di concetto di multi brand lo riteniamo essere un plus per poterci confrontare al meglio con chi poi deve scegliere il prodotto più idoneo e per prestazioni e per costi, in questo caso l'architetto.